Allora questo è il video del pronostico dei gironi di tutto l'europeo di Euro 2024 quindi ora incominciamo Bene, allora dopo questa fantastica sigla e qui alla mia destra poi non so se vuoi vedere se è alla mia sinistra perché qua è la mia destra poi non so come verrà nel video e ora passeranno, si sarà la schermata con tutte le squadre partecipanti e bene, ora possiamo anche iniziare con il pronostico dei gironi e di tutto l'europeo quindi non solo i gironi come faccio in Champions potrei fare la Champions anche a gennaio quando passano però vedremo ok, quindi iniziamo gruppo A secondo me ci saranno Francia, Romania, Scozia e Serbia poi gruppo B poi gruppo B Germania, Turchia, Olanda e Lega B perché quando dico Lega stanno nei playoff, ok? poi gruppo C Belgio, Albania, Scozia, Lega A poi gruppo D Spagna, Ungheria, Slovenia e noi quindi l'Italia poi abbiamo il gruppo E con Inghilterra, Danimarca, Slovacchia, Svizzera e gruppo F Portogallo, Austria, Croazia, Lega C poi come avevo detto nei giorni della Champions non so se l'anno scorso o quest'anno non contà cioè se faccio giusto un girone tipo faccio giusto quello che dico io il gruppo F però è nel girone B io comunque lo tengo giusto il mio pronostico, ok? cioè anche se il girone è sbagliato vabbè io dico così gironi perché dico così è più bello, ok? però fate conto come se è tutto girone X X, X, X perché non si sa in che girone ma se le squadre sono giuste ma in un altro girone è comunque giusto quindi ora invece dirò il pronostico di chi passerà ai quarti di finale bene allora gruppo A passeranno Francia e Serbia gruppo B Germania e Olanda gruppo C Belgio e dalla Lega A passerà la Polonia poi gruppo D Spagna e Italia gruppo E Inghilterra e sarà una sfida tra tutte ma io dico la Danimarca e gruppo F Portogallo e Austria poi ovviamente per comporre gli ottavi di finale servono anche le quattro migliori terze che saranno Turchia Ungheria Svizzera e Croazia questa invece secondo me sarà la fase a eliminazione diretta succederà Francia-Austria Inghilterra-Belgio Croazia-Belgio Croazia-Belgio Basta questo invece sarà la fase a eliminazione diretta secondo me passerà Francia-Austria Inghilterra-Belgio Croazia-Ungheria Olanda-Italia poi Germania-Portogallo Danimarca-Serbia Turchia-Svizzera e Polonia-Spagna da dove si formeranno i quarti di finale Francia-Inghilterra Ungheria-Italia Germania-Danimarca e Turchia-Spagna per poi fare le semifinali Francia-Italia e Germania-Spagna dove passeranno Francia-Germania quindi la finale sarà Francia-Germania e la squadra che vincerà l'Europeo 2024 sarà ahimè la Francia poi però io ovviamente spero che vinciamo che vincerà l'Italia perché è stato bellissimo è stato bellissimo festeggiare nel 2021 e vorrei che risuccedesse perché sono state emozioni fortissime per un popolo intero quindi spero che risucceda anche se secondo me quest'anno non riusciremo ad arrivare in finale ma usciremo in semifinale quindi questo qua è il mio pronostico fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se vincerà la Francia se passerà qualcun altro quindi poi ho detto della Polonia che è lega A quindi secondo me passerà la Polonia quindi lega A lega B lega C passerà qualcun altro secondo voi chi passerà chi lo vincerà fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti e forza azzurri che giojì azzurri 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 Grazie a tutti.